Serie B-Win, tutti i colori della passione. Ventottesima giornata della Serie B-Win che al Castellani di Empoli mette di fronte i padroni di casa al Cittadella. Toscani a metà classifica, forti dei 36 punti conquistati sin qui. Ospiti che a quota 28 sono in piena zona rossa. Per gli uomini di Foscarini nessuna vittoria nelle ultime nove partite. Dirige Palazzino di Ciampino, assistenti signori Franzi e Posado. E' buona l'affluenza di pubblico sugli spalti per una gara che comincia al piccolo trotto con le squadre che nei primi minuti si studiano. Il ritmo piuttosto basso è interrotto dal sinistro senza angolo di Gabbiadini. Al settimo si perde sul fondo. Tre minuti dopo ancora ospiti che si provano questa volta con il destro di De Gasperi. Andanovic blocca facile in due tempi. Empoli che ci prova ma non riesce a calciare in porta. Il primo brivido arriva solo al 26esimo quando Magalianes anticipa Valdipiore sul cross dalla destra di Mori. Un minuto dopo è un nugolo di Maglie in area di rigore. Coralli prova a cercare il barco. Pallone che arriva a Nardini che in qualche modo ci prova con il destro. Bene, Villanova in angolo. Forcing Toscano con Villanova che non è impeccabile nell'uscita su Coralli. Nardini prova a prendere in qualche modo il tempo alla difesa. Il pallone però si perde innocuo anche in questa azione tra le braccia del portiere. Che l'Empoli faccia fatica a trovare lo spunto giusto. Lo si evince anche al 39esimo quando sul corner dalla sinistra il pallone viene ancora messo fuori dalla difesa ospite. Ci prova Moro sul fondo. Il primo tentativo del centravanti Coralli arriva solo al minuto 41. Posizione defilata, tentativo a incrociare e precisione non propriamente chirurgica. 44esimo Gotti sulla sinistra. Con il mancino per Nardini sul secondo palo che gioca di sfonda per Coralli. L'azione è piuttosto concidata. La difesa si salva in qualche modo il calcio d'anno. Su corner seguente Nardini ci prova con il sinistro che è ribattuto. Finisce su piedi di Stovini che la mette dentro. 1-0 Encoli a riposo. Segna Capitano Stovini e il forcing Toscano è premiato. Cittadella che dopo i due tentativi iniziali sembra letteralmente scomparso dal campo. Mai rete fu più legittima. Empoli 1-0 Cittadella. Ripresa però che comincia con un piglio diverso. Basta un minuto per vedere Nassi in posizione regolare a 2x2 con Andanovic. L'attaccante Veneto però non riesce a impattare col pallone. 56esimo l'Empoli torna a farsi vedere dalle parti di Villanova col cross di Gotti. A cercare Coralli non ci arriva e pallone che si perde. 57esimo punizione dal limite per l'Empoli. Questa volta è Forestieri a provarci. Villanova dice no con i punti. Un minuto dopo ancora Forestieri ci prova dalla distanza. Villanova si salva in due tempi. 68esimo ancora Empoli ancora da fuori. Questa volta è Moro con il destro. Villanova respinge. 72esimo altra punizione. Altro destro di Forestieri. Altra risposta di Villanova. Chiamato veramente agli straordinari. 76esimo dall'altra parte. Doppio tentativo di Di Roberto. Il secondo è un missile terra-aria. Andanovic dice no. 84esimo ancora Empoli con Coralli che lotta in aria. Contro mezza difesa. Pallone a Moro che fa touchdown. E manda il pallone in curva. 80esimo festeggia anche un giovane. Azione tra due classi 91. Cassa Ponara. Signorelli. Destro incrociare. Il primo gatto in staglietta. Quanto Signorelli che è un 7 match. Empoli finisce così in Toscana. 2-0 per Agliatti Suoi sull'indice di Coscarini. E Empoli che ottiene tre punti in maniera assolutamente meritata di città per Coscarini. E il Cittadella è nebbia fitta. La vittoria manca ormai da 10 giorni.